Giorgio Chiellini è pronto a tornare titolare e a riprendersi la fascia da capitano della nazionale. Il difensore centrale, rimasto in panchina nella gara contro la Bulgaria, sarà di nuovo in mezzo alla difesa a Basilea per affrontare la Svizzera in una sfida chiave per il primato del Giron di qualificazione ai prossimi mondiali. Contro i Bulgari, assente anche Di Lorenzo, titolare con Chiellini nella finale di Wembley. All'esterno del Napoli, il CT Mancini ha preferito il neomilanista Alessandro Florenzi. La Superlega non è morta, o meglio, sta progettando il ritorno. La rivista tedesca Der Spiegel ha rivelato che l'agenzia inglese Flint, esperta nel settore del lobbying, sarebbe stata contattata per studiare un piano di rilancio della Superlega con tanto di documento bozza intitolato Spianare la strada alla Superleague, strategie per ricostruire, ripartire e vincere. Secondo i media tedeschi, la strategia sarà a prova di bomba contro l'attuale modello UEFA considerato abusivo e monopolistico. Inoltre, i 12 club fondatori sono ancora nel progetto, nonostante il 9 di loro si siano tirati indietro e abbiano accettato di ricongiungersi nuovamente alla UEFA e all'ECA. Inoltre, si starebbe studiando, grazie anche alla società madrilena A22 Sports Management, un sistema più elastico con un format che prevederebbe promozioni e retrocessioni tra un'ipotetica Superlega 1 ed una Superlega 2. Andriysevchenko potrebbe trovare presto una nuova panchina. Dopo aver lasciato la guida della nazionale ucraina lo scorso mese di agosto, secondo le media kazako sport.kz, sulle tracce dell'ex attaccante del Milan, del Chelsea e della Dinamo Kiev, si sarebbe messo l'Uzbekistan, nazionale di Eldor Somurudov. La selezione non è riuscita a qualificarsi al terzo turno di qualificazione ai prossimi mondiali 2022, dicendo addio alle possibilità di andare in a Qatar. Anche se il mercato si è chiuso il 31 agosto, Steven Zonzi potrebbe ugualmente lasciare la Roma. Alcuni mercati, infatti, sono ancora aperti e Tiago Pinto sta cercando la sistemazione per alcuni degli esubri giallorossi. Zonzi, finora, ha rifiutato il Benfica e alcune offerte del Qatar. Difficile da piazzare anche Davide Santon, che ha detto no a Salernitane e Fulham, mentre l'argentino Federico Fazio è rimasto a Trigoria nonostante l'interesse di Parma, Cagliari e Genua alla Vesse e Cadice. Per ora la Roma non intende fare passi indietro, i tre ribelli rimangono fuori dal gruppo.